Puoi spacciare? Puoi spaccare le ossa per il tuo padroncino? Tanno me lo to' un braccio. Ma se ti spacci per salto, tendo a prenderla piuttosto male. Guarda che sti segni mi sono avvenuti da soli. E secondo te il signore sceglierebbe un romanzo? Mi serviva un libro. Una cosa magari può venire dalla pelle, tipo Padre Pio. Padre Pio? Esatto. Ma che ne stigma te? Bravo. Grazie.